Quando ho detto ai miei amici che il mio colore preferito è l'arancioso frutto elettrico, non credevano esistesse un colore così! Perché non sapevano che con il mio laboratorio dei pennarelli Crayola ho tutti gli strumenti per creare i miei pennarelli personalizzati e posso inventare tutti i colori che voglio! E ora ancora più sfumature! Ho creato il Fior di Lilla Farfabrilla e il Rosso Succoso Superfragoloso! Scatena la tua creatività con il laboratorio dei pennarelli multicolori! E ora anche il laboratorio della carta! Crayola! Crayola!